Laureato in farmacia con abilitazione ed esame di Stato, dopo aver lavorato come farmacista, inizia a lavorare in televisione nel 1994 come comico nel programma televisivo Tunnel Suray Trail, fianco di Corrado Guzzanti, con cui in seguito recita in diversi spettacoli teatrali come 1990-10. La seconda che hai detto, è Recital, e in programmi televisivi come l'Otavo Nano e il caso Scafroglia. Il grande successo televisivo lo raggiunge negli anni 2000 con la serie televisiva Distretto di Polizia, dove interpreta l'ingenuo poliziotto Ugo Lombardi. Nonostante la notorietà, continua per alcuni anni a lavorare nella farmacia di famiglia. In quegli anni conosce in una chat una donna colombiana, con cui si sposa nel 2000 e da cui ha due figli. Marzocca ripropone la sua vicenda personale in distretto, facendo vivere una storia analoga al suo personaggio. Nel 2003 ha partecipato a Raio Armi di distrazione di massa. Nel 2006 e nel cast della serie di Raio 1 Raccontami. Con la regia di Riccardo Donna e Tiziana Ristarco. Nel ruolo del sacerdote padre negoziante. Sempre dal 2006 e nel cast di Zelig. Dove interpreta Ariel, un curioso collaboratore domestico filippino di Claudio Bisio. Personaggio che aveva già interpretato nel caso Scafroglia. A cui dall'edizione 2008 affianca il personaggio del notaio. Sulla televisione satellitare ha commentato. Nei panni di Ariel, la seconda stagione di Takeshi Scessoli insieme a Stefano Sarcinelli. Ed è stato attore nel programma Gamebooster in onda su GXT. Il radio partecipa saltuariamente alla trasmissione 610. Condotta e realizzata da Lillo and Greg su Rai Radio 2. Dal 2011 è interprete di diversi spot della team insieme a Bianca Balti e Neri Marco Re. E dal giugno dello stesso anno è ancora al fianco di Corrado Guzzanti nel programma comico di Sky. Uno a Niene.